Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di CEO dell'anno innovazione decontaminazione particellare. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per essere a capo dell'unica azienda italiana in grado di eseguire un processo di lavaggio industriale e decontaminazione particellare secondo le modalità operative rapportate alle esigenze di ogni cliente per dirigere un personale altamente specializzato e per l'esperienza quarantennale a livello nazionale e internazionale. Il premio va a Milena Baroni, Microclin Italia. Saluto proprio lei in collegamento con me, il CEO di Microclin Italia, Milena Baroni. Milena, insomma complimenti, grazie per essere con noi oggi. Grazie, grazie a voi. Vi ringrazio per questo premio sicuramente molto importante per noi e ringrazio non solo da parte mia ma anche da parte di tutto il nostro staff, di tutto lo staff che ha lavorato veramente tanto, soprattutto in questo periodo così drammatico di pandemia. Noi non ci siamo mai fermati, prima appunto parlava di decontaminazione. La decontaminazione è proprio uno dei maggiori prodotti, servizi che va in questo momento purtroppo causa Covid. Il personale ha veramente lavorato tanto, molto qualificato, ha lasciato da parte la paura e ha dato tutto se stesso per poter arrivare ai risultati. Quindi ringrazio ancora, un premio inaspettato ma secondo me anche meritato. Sì, indubbiamente, peraltro leggiamo l'esperienza quarantennale a livello nazionale e internazionale, il personale altamente specializzato l'ha già ricordato anche lei, lo ricordiamo comunque ancora e peraltro leggiamo anche l'unica azienda italiana in grado di eseguire questo processo di lavaggio industriale e decontaminazione particolare come lei diceva, secondo tutte le modalità operative necessarie e giustamente non si può non mettere in relazione questa unicità proprio con il periodo che stiamo vivendo, quindi a causa del Covid. Certo, la nostra azienda opera in questo settore da 40 anni. La decontaminazione particellare è un servizio che di solito utilizzano aziende molto specializzate o enti tipo aerospaziali, microelettronici, farmaceutici. Abbiamo pensato che questo servizio doveva essere assolutamente esteso al paese visto che il paese stava attraversando e sta purtroppo tuttora attraversando un momento difficile e il processo di biodecontaminazione e decontaminazione come lo facciamo noi non lo fa nessuno in Italia ma nemmeno nel mondo. Utilizziamo un processo unico e brevettato, l'indumento entra in questa grande macchina contaminato e in un unico processo esce dall'altra parte pulito, sterile e senza contaminazione. Quindi l'operatore non viene mai in contatto con il prodotto finché non esce completamente pulito ed è contaminato. Oltre a questo l'azienda, io e tutto lo staff abbiamo pensato che anche alcuni nostri prodotti potevano essere utili al paese. Noi produciamo da 40 anni appunto anche degli indumenti a barriera, indumenti protettivi come ad esempio delle mascherine, mascherine molto particolari. Questa mascherina che viene utilizzata nell'ambiente aerospaziale abbiamo pensato di utilizzarla anche appunto per tutti i cittadini italiani e non solo perché poi le richieste sono arrivate anche dall'estero. Una mascherina che riesce con le caratteristiche di una FFP2 che riesce a resistere a 500 lavaggi. Ha superato tutti i test anche dopo 500 lavaggi, è stata validata non solo dall'Istituto Superiore Sanità ma è diventata anche dispositivo medico di classe 1 e una mascherina ad uso medicale di tipo 2. Siamo molto contenti. Beh insomma assolutamente si è creata quindi anche questa sinergia con diciamo così tutto il comparto medico che può aiutare indubbiamente a gestire momenti difficili quindi ancora di più io ci metto, ci aggiungo oltre a quello che abbiamo sentito della motivazione anche la capacità di aver creato queste sinergie. È d'accordo? Si andrà sempre in questa direzione anche per il futuro Milena? Eh purtroppo speriamo che questo passi in fretta questo periodo e attendiamo il famoso vaccino. Nel frattempo proteggiamoci con appunto mascherine di qualità e non quelle fai da te. No. Questo dico non per tirare l'acqua al nostro mulino ma perché purtroppo è una malattia veramente brutta e se non siamo protetti in modo corretto è molto lunga e ne so davvero qualcosa. Allora facciamo così visto che questo è un momento di come dire di gioia no per questo riconoscimento io lo dico sempre però la gioia comprende anche il fatto che non si nasconde la testa sotto la sabbia no di fronte a delle emergenze e situazioni difficili perciò io le faccio intanto un grosso in bocca al lupo per lei ma soprattutto anche per il futuro che sicuramente sarà sempre più luminoso per la microclina Italia e appunto si goda questo riconoscimento in questo momento il premio è andato a lei quindi è giusto anche festeggiare no? Nonostante tutto. Va bene. Assolutamente assolutamente. Grazie. Grazie ancora. Allora la ringrazio ancora Milena Baroni, CEO di Microclina Italia e complimenti. A presto. Grazie, grazie e buon giorno. Grazie.